Salve, mi chiamo Luca Becheroni, sono un infermiere del DEA dell'ospedale Santo Stefano di Prato e ringrazio innanzitutto il dottor Lai per avermi invitato a parlare sul canale Gaming. Oggi parleremo dell'interpretazione dell'ECG in triage. Allora, iniziamo col dire che la conoscenza infermeristica per una curata lettura del tracciato è fondamentale il corretto outcome del paziente, così come ne è fondamentale l'interpretazione esatta dei segni e dei sintomi. Un ECG può rilevare molto sulla salute cardiaca di una persona, individua patologie cardiache silenti, squilibri elettrolitrici che se non trattati potrebbero ostacolare l'efficacia delle cure. Dobbiamo innanzitutto ricordare che la diagnosi differenziale è competenza strettamente medica e non infermeristica. Ma un infermiere esperto ed allenato nella lettura di un tracciato può ridurre notevolmente i tempi di intervento sul paziente, allertando il personale medico e adottando procedure e protocolli previsti nell'unità operativa. Prima di descrivere però il metodo utile a riconoscimento dei vari segni elettrocardiografici che devono mettere in allerta l'infermiere, dobbiamo ripassare qualche concetto basilari di elettrofisiologia cardiaca, che ci aiuti a dare spiegazioni a ciò che vediamo sotto forma di derivazione, di tratte, di intervalli e onde, su una carta millimetrata, descritta appunto come tracciato elettrocardiografico. Il miocardio o muscolo cardiaco è costituito da tre tipi di fibre muscolari differenti, sia per dimensioni che per caratteristiche funzionali. Morfologicamente le cellule del miocardio le possiamo suddividere in cellule di piccole dimensioni, che si trovano nel nodo senoatriale, quindi nel pacemaker cardiaco, e nel nodo atroventricolare. Sono cellule autoritmiche, manifestano una velocità di conduzione piuttosto bassa, e sono devolmente contrattili. Poi abbiamo cellule di dimensioni intermedie, che sono fortemente contrattili, e costituiscono la massa del miocardio. E poi abbiamo cellule di più grosse dimensioni, e sono le cellule miocardiche che si trovano sulla superficie interna della parete dei ventricoli. Sono specializzate per una conduzione rapida, e costituiscono il sistema per la propagazione dell'eccitamento attraverso tutto il cuore, e sono devolmente contrattili. L'attività elettrica, che ha inizio nel nodo senoatriale, si propaga di cellula in cellula attraverso giunzioni intercellulari, i dati gap junction. Il battito cardiaco consiste nella contrazione, quindi nella sistole, e nel rilasciamento, la diastole appunto, ritmici dell'intera massa muscolare del cuore. La contrazione di ogni cellula è associata alla genesi di un potenziale d'azione. Nel cuore il potenziale d'azione si origina nel nodo senoatriale, e da qui viene trasmesso rapidamente attraverso una rete internodale, costituita da fibre muscolari modificate, fino al nodo atrioventricolare, posto in prossimità del pavimento dell'atrio destro. Intanto la depolarizzazione si propaga più lentamente attraverso le cellule miocardiche dell'atrio. Dal nodo atrioventricolare, poi, i potenziali d'azione passano a fibre nel fascio di isse, che si dirige verso la parete che separa i due ventricoli, raggiungendo l'apice del cuore. Da qui l'onda di depolarizzazione si propaga ad entrambi i ventricoli. Cos'è dunque il potenziale d'azione? Il potenziale d'azione delle cellule pacemaker, innanzitutto c'è da dirlo, è diverso dal potenziale d'azione delle cellule, il tessuto del miocardio lavoro. Le cellule miocardiche e autoritmiche possiedono la peculiare capacità di generare potenziali d'azione spontaneamente, in assenza di uno stimolo dal sistema nervoso. Questa proprietà deriva dal loro potenziale di membrana instabile, che parte da meno 60 mV, combiniamo in figura, e che sale lentamente verso il valore soglia, in questo caso meno 40 mV. E ogni volta che il potenziale pacemaker depolarizza la cellula, portandola al valore soglia, parte appunto un potenziale d'azione. Vediamo ora come si genera questo potenziale d'azione, partendo appunto dal potenziale di membrana. Il potenziale di membrana di queste cellule è instabile, parte da meno 60 mV, a volte lentamente sale. Alla base del potenziale pacemaker ci sono i canali IF che si aprono a valori di potenziali negativi e permettono il passaggio di sodio e di potassio. La membrana si depolarizza, i canali IF a questo punto si chiudono e si aprono i canali per il calcio di tipo T. L'ingresso di calcio aumenta portandola fino al valore soglia. A questo punto si aprono i canali per il calcio di tipo L, responsabili della fase ascendente del potenziale d'azione. Questa è dunque la fase di depolarizzazione lenta e calcio dipendente, fino alla genesi del potenziale d'azione. Da qui abbiamo poi la fase di ripolarizzazione potassio dipendente, dove il calcio esce dalla cellula e il potassio entra. E quindi abbiamo un aumento della concentrazione di potassio intracellulare fino a tornare al potenziale di membrana, a valori di potenziale di membrana di meno 60 mV. Il potenziale d'azione invece delle cellule del miocardio lavoro si genera in altro modo. Le cellule contratti dei miocardi possiedono un potenziale a riposo stabile di circa meno 90 mV, come vediamo in figura. Quando un'onda di depolarizzazione invade una cellula contrattile attraverso le giunzioni comunicanti, il potenziale di membrana diventa più positivo. I canali del sodio voltaggio dipendenti si aprono permettendo la rapida depolarizzazione di membrana. Il potenziale di membrana raggiunge circa più 20 mV prima che i canali del sodio si chiudano. A questo punto la membrana comincia a ripolarizzarsi per l'uscita del potassio attraverso i suoi canali aperti. Il potenziale di membrana a questo punto si appiattisce in una fase detta di plateau, grazie a due eventi, ovvero una diminuzione della permeabilità al potassio e un aumento della permeabilità al calcio. La fase di plateau poi termina e si verifica la ripolarizzazione del potenziale di membrana. Quando i canali del calcio si chiudono, i canali tardivi del potassio si aprono. Qual è però il significato funzionale del plateau? E perché lo dobbiamo dire? Lo dobbiamo dire perché è importante. Iniziamo col dire che il plateau allunga la durata del potenziale di azione cardiaco e quindi del periodo rifrattario assoluto. Il lunghissimo plateau del potenziale di azione dei miociti ventricolari è funzionalmente importante per due ragioni. Il calcio che entra attraverso i canali della membrana plasmatica attiva il calcio activated calcio release del reticolo sarcoplasmatico innescando appunto la contrazione del cuore. E questo è, direi, di fondamentale importanza. L'altro motivo per cui è importante il plateau dei miociti ventricolari è che mantenendo depolarizzata la membrana la rende ineccitabile per tutta la sua durata perché appunto mantiene inattivati i canali del sodio. In altre parole, durante il plateau il cuore si trova in uno stato di rifrattarietà assoluta quindi per tutta la durata della contrazione della sistole non può essere nuovamente eccitato. La situazione è molto diversa da quella che si ha nel muscolo scheletro nel quale la rifrattarietà assoluta termina ancora prima che inizi la contrazione. Parliamo ora della carta dell'elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma è la rappresentazione dell'attività elettrica del cuore su carta. Presenta alcune caratteristiche essenziali per la corretta lettura dell'ECG. La carta dell'elettrocardiogramma è una carta millimetrata in cui ogni piccolo quadrato misura un millimetro. Ogni cinque quadrati piccoli c'è una linea più spessa che definisce un quadrato più grande di 5 millimetri. L'asse verticale misura l'ampiezza della corrente elettrica del cuore ed è espresso in millivolt. Di norma, 10 millimetri di altezza equivalgono a un millivolt. Pertanto ogni millimetro di altezza della carta ECG equivale a 0,1 millivolt. Ogni telaio di grandi dimensioni equivale a 0,5 millivolt. L'asse orizzontale invece misura il tempo. In un elettrocardiogramma standard la carta scorre ad una velocità di 25 millimetro al secondo. Un millimetro orizzontale equivale a 0,04 e un quadrato di grandi dimensioni quindi composto da 5 quadratini equivale a 0,20 secondi. Questi valori sono quelli utilizzati in un normale elettrocardiogramma. Se lo si desidera però è possibile aumentare la velocità della carta. ad esempio per visualizzare i disturbi delle onde oppure diminuirla la velocità in caso ci siano disturbi del ritmo oppure aumentare l'ampiezza in presenza ad esempio di microvolture oppure diminuirla quando ad esempio ci sono complessi QRS troppo elevati. Intervalli e segmenti delle ECG invece come vanno letti? Il segmento dell'elettrocardiografico è la linea solitamente isoelettrica che unisce un'onda a un'altra senza includerne nessuna. L'intervallo elettrocardiografico invece è la parte delle ECG che include un segmento oltre a una o più onde. Ad esempio il segmento PR è la linea che unisce la fine dell'onda P con l'inizio del QRS e invece l'intervallo PR inizia dall'inizio dell'onda P fino all'inizio del QRS e include l'onda P. L'intervallo PR rappresenta la depolarizzazione atriale e il ritardo è fisiologico subito dallo stimolo mentre attraversa il nodo atrioventricolare. Viene misurato dall'inizio dell'onda P all'inizio dell'onda Q o dell'onda R e il suo valore normale è compreso tra 0,12 e 0,20 secondi. In casi come nelle sindrome da pre-eccitazione ad esempio nel Wall-Parkinson-White l'intervallo PR può essere ridotto e ciò rappresenta una conduzione atrioventricolare accelerata. Nel brocco atrioventricolare di primo grado ad esempio l'intervallo PR è allungato e ciò rappresenta invece una conduzione atrioventricolare rallentata. L'intervallo RR è la distanza tra due onde R successive. Nel ritmo sinusale questo intervallo deve essere costante. intervallo RR viene misurato dall'inizio di un'onda R all'inizio di un'onda R successiva e la sua durata dipende dalla frequenza cardiaca. L'intervallo QRS misura invece il tempo totale di depolarizzazione ventricolare e viene misurato dall'inizio dell'onda Q o dell'onda R fino alla fine dell'onda S. L'intervallo QRS comprende l'insieme di onde che compongono il complesso QRS è allungato nei blocchi di branca e nelle sindrome da precedazione. L'intervallo QT rappresenta invece la sistole elettrica ventricolare ovvero l'insieme di depolarizzazione e ripolarizzazione dei ventricoli. La sua misurazione varia però con la frequenza cardiaca quindi è consigliabile correggere il suo valore sulla frequenza cardiaca stessa. Esistono diverse formule per eseguire questa correzione. La più utilizzata è la formula di Bazet che divide l'intervallo QT per la radice quadrata dell'intervallo RF ma a frequenze cardiache alte o basse sono più consigliate e altri tipi di correzioni. L'intervallo QT corretto è normale tra 340 millisecondi e 440 millisecondi nei giovani adulti fino a 460 millisecondi nelle donne adulte. Il segmento ST o tratto ST rappresenta l'inizio della ripolarizzazione ventricolare e corrisponde alla fase di ripolarizzazione lenta nel plateau dei miociti ventricolari. Di solito è isoelettrico e viene misurato dalla fine del complesso correnes e all'inizio dell'onda T. C'è da ricordare che a differenza degli intervalli il segmento ST non include alcuna onda. Le variazioni del segmento ST sono di grande importanza nella diagnosi delle sindrome coronariche acute. Cosa utilizziamo per far comparire il tracciato sulla carta? Utilizziamo degli elettrodi. Questi elettrodi devono essere correttamente posizionati sulla persona. Dobbiamo posizionare sia elettrodi periferici che elettrodi precordiato. Come si posizionano gli elettrodi periferici? Ci sono vari modi per ricordarlo. Ad esempio con Milan Brasile dove uno si può ricordare che i colori del Milan sono posizionati a destra quelli del Brasile a sinistra. di fondamentale importanza è ricordarsi che l'elettrodo rosso deve essere posizionato sul braccio destro del paziente, l'elettrodo nero sull'arto inferiore destro del paziente, l'elettrodo giallo deve essere posizionato sul braccio sinistro del paziente e l'elettrodo verde sulla gamba sinistra del paziente. Ecco che in alcuni casi in determinate situazioni gli elettrodi che solitamente vengono posizionati negli arti inferiori possono essere posizionati nell'addome inferiore mantenendo le rispettive posizioni. poi ci sono gli elettrodi precordiali dove vanno posizionati questi tipi di elettrodi v1 nel quarto spazio intercostale sul bordo destro dello sterno v2 nel quarto spazio intercostale sul bordo sinistro dello sterno poi posizioniamo v4 nel quinto spazio intercostale nella linea medio claveare che è la linea che scende perpendicolarmente dal punto medio della clavicola e poi andiamo a posizionare v3 tornando indietro a metà strada fra gli elettrodi v2 e v4 posizioniamo poi v5 nella stessa linea orizzontale dell'elettrodo v4 ma nella linea ascellare anteriore che è la linea che scende perpendicolarmente dal punto medio tra il centro della clavicola e la sua estra metà laterale poi andiamo a posizionare v6 nella stessa linea orizzontale dell'elettrodo v4 e v5 ma nella linea medio ascellare che è la linea che scende perpendicolarmente dal centro dell'ascella gli elettrodi per le derivazioni a destra o posteriori vanno posizionati in altro modo in alcuni pazienti o nel caso di sospetto di infarto posteriore o del ventricolo destro è consigliabile posizionare l'elettrodo in posizioni diverse da quelle descritte al fine di ottenere appunto le derivazioni a destra e le derivazioni posteriori non dobbiamo confondere gli elettrodi ECG con le derivazioni dell'ECG gli elettrodi sono i dispositivi che posizioniamo sul paziente e le derivazioni sono le registrazioni dell'attività elettrica nell'elettrocardiogramma nelle derivazioni per le derivazioni posteriori vengono eseguiti posizionando gli elettrodi V4 V5 V6 nello stesso spazio intercostale dei soliti elettrodi precordiali ma proseguendo verso la schiena del paziente in figura la figura mostra un paziente posto di schiena ok dove V7 sta subito dopo il livello posteriore dorsale dopo il braccio ok quindi nel quinto spazio intercostale nella linea emiascellare posteriore V8 nel quinto spazio intercostale nella linea medio scapolare all'altezza dell'angolo inferiore della scapola V9 nel quinto spazio intercostale nella linea paravertebrale di sinistra nel caso in cui ci viene richiesto invece di effettuare le derivazioni a destra gli elettrodi per realizzare le derivazioni a destra sono posizionati in modo simile a quando si esegue un elettrocardiogramma standard posizionando gli elettrodi da V3 a V6 nella regione precordiale destra quindi V1 come nella posizione normale V2 stesso come nella posizione normale V3 si mette a destra quindi a metà strada fra V1 e V4 come antecedentemente abbiamo già detto però a destra invece che a sinistra quindi V4 nel quinto spazio intercostale destro e nella linea medio claveare V5 di destra nel quinto spazio intercostale destro e nella linea ascellare anteriore V6 nel quinto spazio intercostale destro e nella linea medio ascellare come per le derivazioni posteriori quando viene eseguito un elettrocardiogramma con derivazione a destra per evitare la confusione quando si deve interpretare le cg la parola destra deve essere posizionata grande scritta grande o se lo permette l'elettrocardiogramma scritta attraverso l'elettrocardiogramma direttamente sul tracciato in modo ben evidente ok quindi scrivere destra sulle derivazioni destra che ci vengono richieste è di fondamentale importanza appunto la correlazione tra le derivazioni e le pareti cardiache è di rilevante importanza per l'identificazione della sede del danno o della sede dell'alterazione ognuna delle 12 derivazioni dell'elettrocardiogramma registra informazioni specifiche sulle diverse aree del cuore questo è di grande rilevanza nella cardiopatia ischemica sia nell'infarto miocardico con il sopraslivellamento del tratto ST in cui l'ascesa del tratto ST ci permette di localizzare in sicurezza l'arterio occlusa come nei pazienti con infarti precedenti in cui l'onda Q individua le aree di necrosi possiamo differenziare tre gruppi di derivazioni anatomicamente correlati con le pareti anteriori inferiore e laterali del ventricolo sinistro e un altro gruppo che fornisce informazioni sul ventricolo destro per quanto riguarda le derivazioni destre abbiamo V1 e V2 ventricolo destro e setto interventricolare cioè valutano il ventricolo destro e setto interventricolare poi abbiamo le derivazioni anteriori V3 e V4 che valutano la parete anteriore del ventricolo sinistro le derivazioni laterali basse che sono V5 e V6 valutano la parete laterale bassa le derivazioni laterali alte D1 e AVL poi abbiamo le derivazioni inferiori D2 e D3 e AVF che valutano la parete inferiore per confermare le alterazioni del ventricolo destro è consigliabile eseguire anche le derivazioni corrette destre quindi V3R V4R V5R V6R le alterazioni della parete posteriore sono osservate in V1 e V3 come immagini speculari è consigliabile fare le derivazioni posteriori per contrastare le informazioni di entrambi infatti potrebbe venire da chiedersi perché l'infermiere debba saper leggere un elettroardiogramma beh leggiamo questo caso clinico che ci dà informazioni in tal senso questo caso è avvenuto nel reparto di medicina interna e abbiamo avuto il decesso della paziente per infarto ammiocardico acuto il tribunale di Ferrara condanna gli imputati il medico e l'infermiere fissando una provvisionale complessiva di 95.000 euro X infermiera ometteva di allertare il medico di turno sulle condizioni di salute della paziente V dispnea e gastralgia somministrandoli un farmaco gastroprotettore e ossigeno terapia per 10 minuti J medico in servizio nel turno 14.20 e Y medico in servizio nel turno 27 omettevano di prendere visione del letto cardiogramma effettuato alle ore 17.28 sulla paziente V il cui esame avrebbe consentito di rilevare un infarto del miocardio in atto e predisporre le terapie necessarie ad evitare il decesso l'infarto della signora V era quantomeno nel pomeriggio asintomatico il tracciato ECG era presente nella cartella della paziente al momento in cui essa venne esaminata dal medico legale adesso attestava chiaramente un infarto in atto nessun dubbio sulla possibile interpretazione del tracciato la responsabilità dell'infermiera X sta nella grave negligenza con cui ha sottovalutato i sintomi riferiti dalla paziente e le sue continue richieste di aiuto nella non corretta interpretazione dell'ECG e nel non riferire con esattezza la misura e l'intensità della richiesta della paziente al medico attraverso un semplice rapido algoritmo è possibile identificare i ritmi maligni da quelli non maligni e stabilire rapidamente la priorità di intervento sul paziente evitando l'insorgenza di ulteriori complicanze per una facile lettura ed interpretazione dell'ECG l'infermiere può utilizzare l'algoritmo CRISP si comincia dal calcolare la frequenza cardiaca identificare il ritmo e passare agli step successivi come calcolare la frequenza e valutare il ritmo la lettura dell'ECG inizia con il calcolo della frequenza e del ritmo cardiaco la frequenza in situazioni fisiologiche a riposo si aggira tra i 60 e i 100 battiti al minuto possiamo avere pazienti ritmici o aritmici si parla di bradicardia quando abbiamo una frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto si parla di bradicardia severa quando abbiamo una frequenza cardiaca inferiore a 45 battiti al minuto si parla di tachicardia quando abbiamo una frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto quali metodi abbiamo per calcolare la frequenza cardiaca l'ormale elettrocardiogramma per ogni secondo ci sono 5 quadrati grandi, quindi in un minuto ci sono 300 quadrati grandi. Quella che presentiamo qui ad esempio è la regola del 300, utilizzando proprio questo principio. Sapendo questo possiamo calcolare la frequenza cardiaca misurando l'intervallo RR, a condizione però che il ritmo sia regolare. Individuiamo nell'ECG un'onda R che coincide con una linea spessa. Contiamo il numero dei quadrati che ci sono fino all'onda R successiva e dividiamo 300 per il numero di quadrati grandi. Ad esempio, se esiste un quadrato grande tra due onde R, avremo una frequenza cardiaca di 300 battiti al minuto. Se ce ne sono due, avremo una frequenza cardiaca di 150. Se ce ne sono tre, avremo una frequenza cardiaca di 100. Se ce ne sono quattro, avremo una frequenza cardiaca di 75 battiti al minuto. E se la seconda R non coincide? L'esempio precedente è stato molto semplice, ma non è sempre così. Sappiamo che in un elettrocardiogramma normalmente la seconda R non coincide esattamente con un'altra linea spessa. La soluzione è un po' più faraginosa, tuttavia semplice. Dividiamo il numero 300 per quello dei quadretti che hai contato in precedenza. Una volta trovata la distanza fra i due complessi QRS, ad esempio 3 quadrati grandi e 2 quadretti piccoli, esegui questo calcolo per trovare la frequenza cardiaca, ovvero 300 fratto 3.2, che ti darà una frequenza di 93,75. A rotonda ora il risultato è il numero intero più vicino. In questo caso la frequenza corrisponderà a 94 battiti al minuto. Abbiamo poi la regola dei 6 secondi. Cosa dobbiamo fare per utilizzare questa regola? Fondamentalmente dobbiamo disegnare due linee sul tracciato delle CG, la prima dovrebbe essere a sinistra del foglio e la seconda precisamente dopo 30 quadretti grandi. Questa distanza corrisponde esattamente a 6 secondi. Contiamo adesso il numero dei complessi QRS presenti nella sezione di grafico compresa tra le due linee, ricordando che il complesso QRS è il picco più alto di ciascuna onda che rappresenta un battito cardiaco. Somma adesso il numero dei complessi QRS che si trovano fra le due linee e annotano il risultato. Moltiplica ora tale valore per 10, dato che 10 per 6 secondi corrisponde a 60 secondi, quindi un minuto, questa operazione permette di sapere quanti battiti ci sono in un minuto, l'intervallo di tempo che si utilizza per misurare appunto la frequenza cardiaca. Per esempio se conti 8 battiti in 6 secondi ottiene una frequenza pari a 8 per 10, quindi 80 battiti al minuto. E se la frequenza è aritmica? Beh, questo metodo è particolarmente efficace anche in caso di aritmie. Se il ritmo cardiaco è regolare, il primo metodo descritto in questo caso si rivela molto preciso, perché la differenza tra due picchi QRS consecutivi resta presumibilmente costante lungo tutto il grafico dell'ICG. In presenza di aritmia invece i complessi QRS non sono equidistanti gli uni dagli altri. Il metodo dei 6 secondi è quindi più adatto perché consente di calcolare la media delle distanze fra un battito e l'altro, fornendo un valore più accurato. La seconda domanda che dobbiamo porci è se è presente il complesso QRS. Non è presente? Beh, potremmo trovarci di fronte a assistolia. Tanto per ricordare, l'assistolia è l'interruzione dell'attività elettrica del cuore, con conseguente interruzione della contrattilità delle camere cardiache. A livello cardiografico si evidenzia con un'onda isoelettrica, oppure di fronte a una fibrillazione ventricolare, che è un'eritmia caratterizzata da contrazioni rapidi, inefficaci ed irregolari dei ventricoli. Ne deriva una sequera compromissione dell'agittata cardiaca, tale per cui viene considerata tra le cause principali di arresto cardiaco di morte improvvisa. La fibrillazione ventricolare, nel 40-80% di casi, si manifesta senza aritmie premonitrici e la sua incidenza è più elevata nelle prime ore di un infarto miocardico, nel 60% infatti nelle prime 24 ore e nel 80% nelle prime 12 ore. In entrambi i casi, valutare subito la presenza o meno di polso e dare priorità assoluta al paziente. Oppure, il complesso QRS è presente, allora potremmo trovarci di fronte a un ritmo sinusale o a una aritmia, tipo ad esempio una fibrillazione etriale, ma di questo ne parleremo più avanti. La terza domanda che dobbiamo porci è se è presente o meno l'onda P. Non è presente l'onda P? Allora dobbiamo valutare il QRS. Se il complesso QRS è uguale o maggiore a 3 quadrati piccoli, quindi maggiore di 0,12 millisecondi, il complesso QRS è considerato largo. L'infermiere deve ora determinare il tipo di ritmo e uno di questi tre ritmi può essere presente. Il ritmo idioventricolare o idioventricolare accelerato. Il ritmo idioventricolare accelerato è un ritmo ventricolare con una frequenza compresa tra 40 e 120 battiti al minuto. Idioventricolare significa relativo o che interessa solo il ventricolo cardiaco. e si riferisce a qualsiasi ritmia ventricolare ectopica. Le ritmie idioventricolari accelerate si distinguono dai ritmi ventricolari con frequenze inferiori a 40, dette confuga ventricolare, e da quelle superiori a 120, dette tachicardie ventricolari. Il ritmo idioventricolare viene anche chiamato IVR, etachicardia ventricolare lenta. Può essere presente alla nascita, tuttavia è più comunemente associato alla riperfusione dopo un danno miocardico ed è generalmente considerato un ritmo cardiaco anormale e benigno, tipicamente temporaneo e non richiede trattamento. Appare simile alla tachicardia ventricolare con complessi QRS ampi e ritmo regolare. Può essere più facilmente distinto dalla tachicardia ventricolare in quanto la frequenza è inferiore a 120 battiti al minuto e potrebbe esserci o meno dissociazione atriventricolare a seconda che sia dovuta alla fuga ventricolare o al blocco atrioventricolare. È considerata una ritmia benigna soprattutto nel contesto di uno stemi, dove è convenzionalmente ritenuto un indicatore di riperfusione, che non richiede intervento, sebbene la disincronia atrioventricolare possa causare instabilità emodinamica, che può essere trattata tramite stimolazione overdrive o atropina. Oppure possiamo trovarci di fronte alla tachicardia ventricolare, sostenuta. La tachicardia ventricolare è un ritmo cardiaco accelerato che origina dai ventricoli, si definisce monomorfa se tutti i battiti hanno la stessa morfologia, l'elettrocardiogramma, ossia si originano dallo stesso sito ventricolare. Si dice polimorfa in caso contrario. In base alla durata si definiscono sostenute o non sostenute, tollerate o non tollerate, in base all'eventuale perdita di coscienza durante la ritmia. La tolleranza di una tachicardia ventricolare dipende dalla frequenza cardiaca, dalla funzione di pompa del cuore e dall'efficacia di una risposta vasocostrettiva periferica. Una forma particolare di tachicardia ventricolare è la torsione di punta. Una forma polimorfa è a frequenza molto elevata, solitamente autolimitantesi, ma che può degenerare in una fibrillazione ventricolare o arresto cardiaco. Si associa a cardiopatia ritmogene e diitarie con difetti a carico dei canali ionici delle cellule miocardiche, come ad esempio la sindrome del cutillungo. La diagnosi della tachicardia ventricolare è elettrocardiografica e si basa sul reperto di un ritmo cardiaco rapido con complesso QRS allargato. Le aritmie ipercinetiche ventricolari sono le turpe del ritmo più frequenti e sono legate all'ischemia miocardica e alle riperfusioni. La tachicardia ventricolare è stata segnalata in passato nel 10-40% dei pazienti con IMMA, mentre attualmente l'incidenza si è ridotta al 2-4%. I trattamenti possibili dipendono dal tipo di tachicardia e dalle eventuali cardiopatie associate e comprendono farmaci antiaritmici, ablazioni trascatetere e impianto di un defibrillatore. Sempre relativo alla domanda se c'è presenza di onda P, dove non c'è presenza di onda P, continuiamo a valutare il complesso QRS. Se il complesso QRS è stretto, quindi minore di 3 quadratini, può essere presente uno di questi tre ritmi. Fibrillazione atriale, che è un'eritmia sopraventricolare innescata da impulsi elettrici provenienti da cellule muscolari miocardiche presenti a livello della giunzione tra le quattro vene polmonari e l'atrio sinistro. Nella fibrillazione atriale l'attività elettrica degli atri è completamente disorganizzata e non corrisponde a un'attività meccanica efficace. Le onde di depolarizzazione atriale, onde F, sono di piccola ampiezza e hanno una frequenza molto elevata, dai 400 a 600 impulsi al minuto. In queste condizioni il nodo atriventricolare riceve dall'atrio molti più impulsi di quanti sia in grado di condurne, esercitando quindi una funzione di filtro che trasmette ai ventricoli un numero di battiti non eccessivamente elevati. Numerosi impulsi penetrano infatti solo parzialmente nel nodo atriventricolare e si bloccano al suo interno. Questa variabilità della conduzione atriventricolare fa sì che i ventricoli si contraggano in maniera regolare. Gli aspetti elettrocardiograficamente salienti della fibrillazione atriale saranno quindi l'assenza di onde P e la presenza di onde F e l'irregolarità dei battiti. Dal punto di vista clinico la fibrillazione atriale si suddivide in base al modo di presentazione in parossistica, quando gli episodi si presentano e si risolvono spontaneamente in un tempo inferiore a una settimana, persistente quando l'episodio arittimico non si interrompe spontaneamente ma solo a seguito di interventi terapeutici esterni, permanente quando non siano ritenuti opportuni tentativi di cardioversione o gli interventi terapeutici si siano dimostrati inefficaci. Il trattamento sarà la cardioversione farmacologica, elettrica o nessuna se il trattamento è da fare oppure nessuna cardioversione ma il trattamento scoagulante con step terapeutici a seguire e si potrà effettuare anche l'ablazione a seguito di uno studio elettrofisiologico cardiaco. Oppure ci possiamo trovare di fronte a un flattere atriale. Gli impulsi sono circolari in questo tipo di ritmo sul latrio, intorno al latrio. Questo è caratterizzato da intervalli a dente di sega. Il flattere atriale è un'attacchiaritmia sopraventricolare caratterizzata da un'attivazione atriale molto rapida, 200-350 battiti al minuto, e regolare. La conduzione degli impulsi atriali ai ventricoli viene rallentata fino al blocco a livello della giunzione atroventricolare, ovvero il filtro nodale, per cui la frequenza di attivazione ventricolare è più bassa di quell'atriale, di solito 120-130 battiti al minuto, quindi abbiamo un blocco atriventricolare di 2-3-1. La diagnosi di flattere atriale è basata sull'ECG. In un tipico flattere l'ECG mostra una continua e regolare attivazione atriale con un pattern a denti di sega, con un DF, evidente prevalentemente nelle derivazioni inferiori di 2-3-AVF. Il massaggio del seno carotideo può aumentare il blocco atrioventricolare ed evidenziare meglio le tipiche onde da flattere. Una simile risposta si può avere grazie al blocco farmacologico del nodo atrioventricolare, per esempio con l'adenosina. Ma questa terapia non interrompe solitamente il flattere atriale. Il trattamento è con controllo della frequenza cardiaca con i farmaci, controllo del ritmo con cardioversione, farmaci e oblazione, e poi con la prevenzione del tromboembolismo. Possiamo poi rilevare la tachicardia sopraventricolare. È causata dalla presenza di una doppia via di conduzione nel nodo atrioventricolare, una rapida e una lenta, che in presenza di una extrasistole atriale genera un meccanismo di rientro che perpetua la tachicardia. Dal punto di vista elettrofisiologico si distinguono due forme di tachicardia da rientro nodale, la lenta-rapida, comune, e la rapida-lenta, meno comune. Sull'elettrocardiogramma la tachicardia da rientro nodale è caratterizzata da tachicardia con QRS stretti, regolari, con frequenza cardiaca fra i 120 e i 250 battiti al minuto. La forma comune presenta l'assenza di onde P, o immagine di falsa onde R in V1, o falsi onde S nelle derivazioni inferiori, con onde P inserite nei QRS. La forma non comune presenta onde P negative subito dopo il QRS, prima dell'onda T, nelle derivazioni soprattutto inferiori. Poiché si tratta di una tachicardia sopraventricolare a cui partecipa il nodo avventricolare, è normale interromperlo con manovre vagali, o con la somministrazione di ardenosina per via endovenosa. Il trattamento definitivo della tachicardia da rientro nodale è l'ablazione trascatetere della via lenta. E se l'onda P è presente? Beh, allora possiamo semplicemente passare allo step successivo. La quarta domanda che dobbiamo porci è Ogni onda P è seguita dal complesso QRS? Se la risposta è sì, allora dobbiamo valutare il rapporto PQ-PR. Se questo rapporto è maggiore di 0,20 secondi, allora ci troviamo di fronte a un blocco atrioventricolare di primo grado. In questo blocco vi è un ritardo nella conduzione dell'impulso dall'atrio ai ventricoli, con conseguente prolungamento dell'intervallo PR maggiori di 0,2 secondi. Il complesso QRS segue ogni onda P e l'intervallo PR rimane sempre costante. Se invece ogni onda P non è seguita da un complesso QRS, allora abbiamo un blocco atrioventricolare di secondo grado, detto anche blocco di conduzione. Nel blocco atrioventricolare di secondo grado si verifica un'interruzione discontinua del passaggio dello stimolo dagli atrioventricoli. Osserveremo dunque sull'elettrocardiogramma delle onde P non condotte, non seguite da complessi QRS. In base alle loro caratteristiche sull'elettrocardiogramma sono classificati come blocco atrioventricolare di secondo grado, tipo 1, detti anche Mobitz 1 o periodismo di Luciani-Wenckebach, e tipo 2, ovvero Mobitz 2. Nel blocco atrioventricolare di secondo grado, tipo 1, si osserva un progressivo rallentamento della conduzione atrioventricolare fino all'interruzione del passaggio dell'impulso. L'ICG mostra allungamento progressivo dell'intervallo PR fino a quando un'onda P viene bloccata. L'intervallo RR viene progressivamente ridotto all'onda P bloccata. complesso QRS di caratteristiche normali se non ci sono altre alterazioni. L'intervallo RR è un intervallo contenente l'onda P bloccata ed è più breve dei due precedenti intervalli RR. Il blocco atrioventricolare di secondo grado, tipo 2, è meno frequente dei precedenti e di solito implica la presenza di patologie cardiache sottostanti. Questo tipo di blocco atrioventricolare è caratterizzato da un improvviso blocco della conduzione atrioventricolare senza allungamento del precedente intervallo PR. L'ICG mostra l'onda P bloccata con intervalli PR precedenti e successivi di durata simile, l'intervallo RR che include l'onda P bloccata è uguale ai precedenti due intervalli RR e complesso QRS di caratteristiche normali se non ci sono altre azioni. In alcuni casi può seguire una certa sequenza ogni tre intervalli PR normali c'è un'onda P bloccata o essere appunto variabile. Nel blocco atrioventricolare di secondo grado avanzato è possibile vedere più di un'onda P bloccata consecutiva. Questo blocco atrioventricolare può progredire al blocco atrioventricolare di terzo grado in modo imprevisto e richiede generalmente un impianto di pacemaker definitivo. È un paziente al quale chiaramente dovremmo dare una priorità. Possiamo inoltre trovarci di fronte al blocco atrioventricolare di terzo grado. Il blocco atrioventricolare di terzo grado è caratterizzato dalla completa interruzione della conduzione atrioventricolare. Nessuna stimolazione generata dall'atrio in questo caso passa nel ventricolo. Quindi gli atri e ventricoli vengono stimolati ciascuno al proprio ritmo. Il ritmo ventricolare dipenderà dal sito del sistema di conduzione in cui ha origine il ritmo. Le sue caratteristiche nelle CG sono onde P e complesse QRS che non sono correlati fra loro con la frequenza dell'onda P più alta. Posizione delle onde P vicino al complesso QRS iscritte su DS o sull'onda T. La morfologia e la frequenza dei complessi QRS dipendono dall'origine del ritmo di fuga e se proviene dal nodo atrioventricolare la frequenza cardiaca sarà più alta e il QRS sarà più stretto. Se invece provengono dai rami distali del fascio dis ci saranno marcata bradicardia e QRS simili a un blocco di branca. Il blocco atrioventricolare di primo grado e di secondo grado tipo 1 di solito non richiedono un trattamento sebbene possano progredire verso blocchi di grado superiore. Invece, chiaramente, il blocco atrioventricolare di terzo grado o di secondo grado un MOBIZ2 necessitano di una priorità assoluta e indipendentemente dai sintomi necessitano probabilmente di un pacemaker definitivo. Prima di indicare un pacemaker definitivo devono essere escluse altre cause reversibili del blocco atrioventricolare come, ad esempio, il trattamento con farmaci beta-bloccanti o antiaritmici oppure la cardiopatia ischemica. La quinta cosa che dobbiamo fare è valutare il tratto ST. Il tratto ST può essere sopra-slivellato o sotto-slivellato. Parliamo adesso del sopra-slivellamento. Il tratto o segmento ST in condizioni normali è piatto isoelettrico sebbene possa presentare piccole variazioni inferiori a 0,5 mm per valutare il suo spostamento viene utilizzato come riferimento il segmento tra l'onda T del battito precedente e l'onda P del battito analizzato. Il segmento fondamentalmente è TP precedente. Nel caso in cui non sia isoelettrico viene utilizzato il segmento PR del battito stesso. Ci può essere, come abbiamo detto, sopra o sotto-slivellamento non patologico. Nel caso del sopra-slivellamento del tratto ST entro alla norma ecco che questo si può manifestare nelle persone sane e si può osservare un leggero sopra-slivellamento di questo tratto da 1 a 1,5 mm. Leggermente convesso con normale morfologia nelle derivazioni precordiali destre. Nella vagotominia e nella ripolarizzazione precoce può esserci un sopra-slivellamento del tratto ST da 1 a 3 mm convesso specialmente nelle derivazioni precordiali. Per quanto riguarda invece il sotto-slivellamento del tratto ST entro la norma quindi non patologica ecco che di solito viene osservato durante lo sforzo fisico e presenta una rapida elevazione attraverso la linea isoelettrica. Per quanto riguarda invece la questione patologica la cardiopatia ischemica sappiamo essere la causa più frequente delle anomalie del segmento ST quando appunto una regione del cuore soffre di ischemia persistente viene generata un'immagine di lesione all'elettrocardiogramma con una variazione del segmento ST sia esso un sopra-slivellamento o un sotto-slivellamento a seconda del grado di occlusione dell'arteria coronarica. Nel caso del sopra-slivellamento del tratto ST nella cardiopatia ischemica c'è da dire che è uno dei primi segni di infarto miocardico ed è generalmente correlato all'occlusione acuta e totale di un'arteria coronarica. Per fare la diagnosi di infarto del miocardio con sopra-slivellamento del tratto ST in inglese è detto STEMI tale elevazione deve essere persistente e in almeno due derivazioni contigue maggiore o uguale a due millimetri negli uomini o maggiore o uguale a un millimetro e mezzo nelle donne in V2 e V3 e o maggiore o uguale a un millimetro in altre derivazioni precordiali contigue o derivazioni periferiche. Il numero di derivazioni interessate indica l'entità dell'infarto maggiore il numero di derivazioni con sopra-slivellamento ST maggiori saranno le aree del miocardio coinvolte e la gravità dei danni associati. Se c'è un sopra-slivellamento dell'STI in tutte le derivazioni tranne in AVR è più probabile che si tratti di una pericardite acuta e non di un infarto acuto. Il sottoslivellamento invece del tratto ST in forma acuta è un segno di danno miocardico così come il sopra-slivellamento. è in inglese chiamato enestemi in genere è correlato all'occlusione parziale di un'arteria coronarica. Come nel sopra-slivellamento e sotto-slivellamento del tratto ST deve essere presente in almeno due derivazioni contigue. Può essere transitorio nell'angina pectoris o persistente ed è un segno di alterazione durante lo stress test. appare anche come un'immagine speculare in derivazioni non colpite da un infarto con sopra-slivellamento del tratto ST. E le immagini speculari cosa sono? Durante un infarto miocardico con sopra-slivellamento del tratto ST quindi stemi ci sono derivazioni con sopra-slivellamento e derivazioni con sotto-slivellamento del tratto ST nello stesso ECG. Questo è un esempio di immagini speculari appunto quello che vediamo nelle immagini proposta. Le derivazioni che presentano un sotto-slivellamento del tratto ST sono derivazioni non influenzate dall'occlusione coronarica ma riproducono solo il sopra-slivellamento del tratto ST come se fosse di fronte a uno specchio. Da qui prendono il nome di immagini speculari. È importante notare che in un elettrocardiogramma che presenta derivazioni con sopra-slivellamento e sotto-slivellamento del tratto ST le derivazioni con sopra-slivellamento del tratto ST sono quelle che riflettono il danno miocardico. Quindi sono quelle che segnano la posizione e l'estensione dell'infarto. Altre cause del sopra-slivellamento del segmento ST sono appunto la ripolarizzazione precoce dove appunto c'è il sopra-slivellamento concavo del tratto ST con presenza dell'onda J e riempimento finale del QRS. La pericardite acuta nella sua fase iniziale può avere un sopra-slivellamento concavo del tratto ST in quasi tutte le derivazioni tranne che in AVR con sotto-slivellamento generalizzato del tratto PR. Nella sindrome di Brugada avremo il sopra-slivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali destre V1 a V3 maggiore di 2 mm tanto nel modello di tipo 3 con una morfologia appunto caratteristica. Nell'ipercalemia il sopra-slivellamento è generalmente lieve ed è accompagnato da un'onda T alta a picco che è la più frequente solitamente appunto. Nell'aneurisma ventricolare si osserva come un sopra-slivellamento del tratto ST che persiste settimane dopo un infarto. Nell'ipotermia abbiamo questa onda onda G dette onde di Osborne che sono appunto un segno di ipotermia del paziente. Cause secondari ai cambiamenti della ripolarizzazione sono anche i blocchi di Branca pacemaker elettrico e World Parkinson White. Altre cause invece del sottoslivellamento del segmento ST sono l'ipocalemia accompagnato da un'onda T piatta o negativa e un aumento dell'ampiezza dell'onda U. Lo sforzo fisico durante l'ergometria ad esempio è una constatazione nella norma si possono anche osservare falsi positivi dove abbiamo appunto un sottoslivellamento del tratto ST con pendenza orizzontale o decrescente specialmente nelle donne e negli anziani senza patologie coronariche quando si esegue una angiografia. Nel prolasso mitralico l'ICG è di solito normale ma il sottoslivellamento del tratto ST e le onde T negative possono manifestarsi nelle derivazioni inferiori. durante o dopo la tachicardia parossistica si osservano un sottoslivellamento del tratto ST e le onde T negative che si correggono nella maggior parte dei casi quando la tachicardia regredisce. Nell'ipertrofia ventricolare sinistra è comune trovare un sottoslivellamento asimmetrico del tratto ST con un sottoslivellamento iniziale lento e onde T negative nelle derivazioni laterali. Oppure nel caso da impregnazione con digossina possiamo avere il sottoslivellamento concavo del tratto ST dall'aspetto appunto scavato. Ulteriori considerazioni le possiamo fare sul blocco di branca sinistro di nuova insorgenza e sui battiti ectopici ventricolari. È opportuno verificare se il paziente presenta un blocco di branca sinistro di nuova insorgenza perché potrebbe anch'esso mascherare uno stem. Quando lo stimolo elettrico nel caso del blocco di branca sinistra appunto si ha che lo stimolo elettrico dal nodo latroventricolare non viene condotto alla branca sinistra del fascio di is. Si produce un blocco appunto della branca sinistra. Questa interruzione dell'impulso deve avvenire prima della suddivisione della branca sinistra nei suoi fascicoli altrimenti avremo un blocco fascicolare sinistro. Il blocco di branca sinistro si presenta generalmente con un'onda R larga con incisure nelle derivazioni D1 a VL V5 e V6. Cause del blocco di branca sinistra possono essere appunto idiopatica l'ipertensione arteriosa l'ischemia l'anamiocardite e le cardiomepatie. Altre considerazioni relative al blocco di branca sinistro le possiamo fare sull'emiblocco anteriore sinistro o sull'emiblocco posteriore sinistro. Mi preme ricordare che se l'infermiere rileva un blocco di branca sinistra di nuova insorgenza deve dare priorità al paziente in quanto questo come già abbiamo detto può nascondere un infarto sottostante appunto. Per quanto riguarda l'emiblocco anteriore sinistro un tipo di blocco di branca sinistra si rileva osservando la risultante vettoriale del segnale elettrico cardiaco che in tal caso ha una deviazione verso l'alto proprio laddove il complesso ventricolare appare positivo sia in D1 e a VL infatti il reperto elettrocardiografico mostra il complesso ventricolare prevalente positivo in D1 e a VL con il caratteristico aspetto del complesso R o R grande s piccolo clinicamente l'individuazione di un emiblocco anteriore sinistro che è un reperto frequente nell'anziano con cuore sano può far sospettare un difetto atriale nel soggetto giovane ipertensione stenosi aortica o infarto del miocardico possono essere cause scatenanti o coesistenti l'emiblocco anteriore sinistro ma può anche verificarsi in caso di overdose da digossina iperpotassemia cardiomeopatia dilatativa e sclerosidile negre la sintomatologia è spesso assente ma qualora sia presente il paziente riferisce sincope vertigini astenia sintomi e segni sono solitamente riconducibili all'alterazione della trasmissione del segnale elettrico con ad esempio un rallentamento del ritmo cardiaco l'emiblocco posteriore sinistro invece per la qualità del danno al fascio porta lo stimolo elettrico o meglio la forza elettrica a deviare verso il basso elettrocardiograficamente otterremo un complesso del tipo R grande S piccolo in D3 a VF mentre nelle devazioni a VL e D1 che sono poste in alto e a sinistra i complessi ventricolari saranno negativi è clinicamente rilevante se coesiste una diagnosticata di nuova insergenza ipertrofia ventricolare destra e l'infisema polmonare quindi in generale non ha significato patologico ma se rilevato dopo un infarto del miocardio acuto assieme a un blocco di branca destra è indicativo di un danno miocardico esteso riassumendo nel blocco di branca sinistra incompleto la durata del complesso QRS è tra 0.11 e 0.12 secondi quindi all'interno dei tre quadratini un'onda R alta da V4 a V5 assenza dell'onda Q iniziale nelle derivazioni D1 a VL V5 e V6 allungamento della porzione ascendente iniziale dell'onda R in V5 e V6 in entrambi i blocchi incompleti ci possono essere cambiamenti nel tratto ST o dell'onda T per quanto riguarda invece il blocco di branca sinistro la durata del complesso QRS è maggiore o uguale a 120 millisecondi negli adulti quindi maggiore di tre quadratini onda R larga con incesure nelle derivazioni D1 a VL V5 e V6 assenza delle piccole onde Q nelle derivazioni D1 V5 e V6 deflessione intrinsecoide maggiore di 60 millisecondi nelle derivazioni V5 e V6 ma normale nelle derivazioni V1 V2 e V3 quando si osserva una piccola onda r piccola iniziale in questa derivazione il tratto ST e l'onda T sono opposti alla direzione del complesso QRS com'è che si può identificare un infarto miocardico quando siamo in presenza di un blocco di branca sinistro completo oppure se c'è un ritmo indotto da pacemaker di recente sono stati validati questi criteri criteri di sgarbossa dove con un punteggio maggiore uguale a 3 si ha una specificità del 90% per la diagnosi di infarto del miocardio è opportuno verificare se il paziente innanzitutto presenta un blocco di branca sinistra di nuova insorgenza poiché potrebbe come abbiamo già detto più volte mascherare uno stemi nel paziente con blocco di branca sinistro un ritmo ventricolare stimolato la diagnosi di infarto è basata sulle cg ed è difficile i segmenti ST della linea di base e le onde T tendono ad essere spostati in una direzione discordante si chiama discordanza appropriata che può mascherare o imitare l'infarto omeocardico acuto tuttavia le cg seriali possono mostrare variazioni dinamiche del segmento ST durante l'ischemia un nuovo blocco di branca sinistro è sempre patologico e può essere un segno di infarto del miocardio abbiamo detto i tre criteri originali usati per diagnosticare l'infarto in questi pazienti sono specifici ma non sensibili per l'infarto del miocardio è stato riportato che un punteggio come abbiamo detto maggiore o uguale a 3 ha una specificità del 90% per la diagnosi di infarto del miocardio e dove appunto si va a valutare questi tre item se abbiamo un sopraslivellamento del tratto ST concordante al complesso QRS positivo di un millimetro o più abbiamo un valore di 5 punti se abbiamo un sopraslivellamento ST di 5 mm o più discordante con il complesso QRS abbiamo un punteggio di 2 punti se abbiamo un sottoslivellamento di 1 mm o più nelle derivazioni V1 V2 o V3 ecco che abbiamo un punteggio di 3 punti come esiste un blocco di branca sinistro esiste anche un blocco di branca destro e le caratteristiche dell'elettrocardiogramma del blocco di branca destra sono un riflesso delle anomalie della conduzione intraventricolare i criteri elettrocardi grafici per il blocco di branca destra completa sono molteplici solitamente nel blocco di branca destra il complesso QRS in V1 termina con un'onda positiva R' di ampiezza e larghezza generalmente maggiore rispetto alla prima onda positiva R e già questo ci fa fare di diagnosi di blocco di branca destra in realtà per una diagnosi più accurata c'è bisogno di rispettare altri item quali appunto la durata del QRS che deve essere maggiore o uguale a 120 ms negli adulti la morfologia variabile nelle derivazioni V1 e V2 dove le onde R' sono generalmente più larghe delle onde R iniziali l'onda S che ha maggiore durata rispetto all'onda R o maggiore di 40 ms nelle derivazioni D1 e V6 negli adulti l'altro è una deflessione intrinsecoide normale nelle derivazioni V5 e V6 ma maggiore di 50 ms sempre nella derivazione V1 di questi criteri i primi tre devono essere presenti per effettuare la diagnosi quando una singola onda R dominante è presente con o senza TAC e V1 il criterio V4 deve essere sempre soddisfatto nel blocco di branca destro nella maggior parte dei casi non è associato a cardiopatia tuttavia dovremmo escludere l'esistenza di difetto del setto interatriale di miocardiopatie di cuore polmonare di valvolopatie di cardiopatia ischemica infatti le cause del blocco di branca destra possono essere malattie congenite alterazioni che causano sovrancarico ventricoli destre cause iatrogene come il cateterismo cardiaco oppure il trattamento con antiarrittimici antidepressivi triciclici o altro cause acquisite come la cardiopatia ischemica oppure altre cause come la conduzione aberrante o il feromeno di Hachman l'ipercalemia oppure l'avvelenamento d'arsenico altre considerazioni le possiamo fare sull'extrasistole con il termine extrasistole si definisce il battito cardiaco prematuro anticipato cioè una contrazione cardiaca che si inserisce prima del previsto alternandone appunto la sequenza nel normale ritmo sinusale parlando di extrasistole si parlerà di extrasistole atreali extrasistole giunzionali e compressi prematuri ventricolari per quanto riguarda l'extrasistole atreale c'è da dire che l'impulso elettrico ectopico origina da cellule poste negli atri al di fuori del nodo senoatriale attraversa il nodo atrioventricolare e percorrendo il fascio di is e le sue branche depolarizza i ventricoli per tale motivo l'aspetto dell'onda P del complesso prematuro risulta differente da quella delle onde P sinusali mentre la morfologia del QRS extrasistolico è identica a quella dei complessi sinusali logicamente in sequenza in presenza di un complesso prematuro appare regolare l'intervallo RR è possibile che l'impulso elettrico ectopico non riesca a depolarizzare i ventricoli arrestandosi a livello del nodo atrioventricolare si parla in tal caso di extrasistole atreale non condotta sul tracciato ECG compare un'onda P di diversa morfologia non seguita da un complesso QRS e ciò avviene per lo stato di refrattarietà del nodo atrioventricolare è anche possibile che lo stato di refrattarietà incontrato dall'impulso elettrico prematuro risulti a carico di una branca del fascio di Is ne consegue una morfologia alterata del QRS che appare slargata tipo blocco di branca in tal caso si parla di extrasistole atriale a conduzione aberrante o condotta con aberranza per quanto riguarda invece l'extrasistole giunzionale c'è da dire che l'impulso elettrico ectopico trae origine a livello della giunzione atrioventricolare dal nodo atrioventricolare o più frequentemente il fascio di Is prima che il nodo senoatriale dia origine al normale ciclo sinusale per tale motivo il complesso QRS è anticipato quasi sempre con una normale morfologia oppure non è preceduto da un'onda P o è preceduto da un'onda P invertita meglio visibile nelle derivazioni Cg inferiori D2 D3 Avf l'onda P può anche apparire immediatamente dopo il complesso QRS come nei battiti prematuri atriali appare irregolare l'intervallo RR le extrasistorie giunzionali e atriali comunemente indicate come battiti ectopici sopraventricolari non necessitano solitamente di trattamento se non particolarmente frequenti o sostenute da causa identificabile quale ad esempio un ipertiroidismo per quanto riguarda invece i complessi prematuri ventricolari il focolaio etopico dal quale origine complesso prematuro può essere localizzato in qualsiasi punto del ventricolo destro o sinistro del cuore il QRS è indipendente dalla presenza di onda di attivazione atriale ed appare largo in quanto non condotto tramite le normali via di conduzione bensì attraverso il miocardio ventricolare molto più lento nel far correre l'impulso elettrico i battiti ectopici ventricolari possono essere monomorfi cioè apparire sempre con la stessa morfologia o polimorfi con aspetto ed origine diversa possono inoltre essere isolati o presentarsi a coppie o triplette ed in quest'ultimo caso si parla già di una tachicardia ventricolare non sostenuta ancora possono avere una cadenza ritmica presentandosi ad esempio dopo ogni complesso sinusale si parla di bigeminismo dopo due complessi sinusali trigeminismo dopo tre complessi sinusali quadrigeminismo se non particolarmente frequenti non hanno di solito impatto sul quadro emodinamico del paziente che può avvertirli come sensazione di battito mancante possono essere la spia di un'importante patologia sottostante ad esempio uno scompenso cardiaco una cardiopatia ipertrofica o dilatativa una cardiopatia ipertensiva una cardiopatia ischemica una displasia ritmogena del ventricolo destro oppure la sindrome di Brugano assumono una particolare pericolosità quando molto precoci cadono sull'onda T del complesso precedente configurandone così il fenomeno R su T che può innescare un'attacchiaritmia ventricolare ecco questo è una appunto una priorità da dare al paziente una priorità chiara da dare al paziente tachicardia o fibrillazione ventricolare sono i ritmi che possiamo possiamo vedere il fenomeno R su T è particolarmente frequente nei complessi prematuri ventricolari secondari alla sindrome del cutto in lungo le extrasistole ventricolari isolate si presentano nell'1% degli ECG di soggetti asintomatici fino al 75% dei pazienti che siano stati sottoposti ad ECG alter e la loro incidenza aumenta progressivamente con l'età altre considerazioni le possiamo fare relative al potasso possiamo avere un'ipocalemia o un'ipercalemia per quanto riguarda l'ipocalemia un ECG deve essere sempre eseguito su tutti i pazienti affetti sia da ipopotassemia che da iperpotassemia gli effetti cardiaci dell'ipocalemia sono solitamente diminimentità fino a che i livelli 16 di potasso siano inferiori a 3000 equivalenti litro o 3000 mole litro l'ipocalemia causa un sottoslivellamento del segmento ST con una depressione dell'onda T e un'elevazione dell'onda U con un'ipocalemia marcata l'onda T diventa progressivamente più piccola e l'onda U sempre più larga talvolta un'onda T piatta o positiva si fondi con un'onda U positiva il che può essere confuso con un prologamento del QT l'ipocalemia può causare battiti prematuri ventricolari contrazioni prematuri atriali tachiaritmie ventricolari o sopraventricolari e blocco atriventricolare di secondo o terzo grado queste aritmie diventano progressivamente più gravi con l'aggravarsi dell'ipocalemia e alla fine può verificarsi la fibrillazione ventricolare per quanto riguarda invece l'ipercalemia le modifiche del LCG sono spesso visibili quando il potassio sierico è maggiore di 5.5 milio equivalenti litro il rallentamento della conduzione è caratterizzato dall'allungamento dell'intervallo PR e dall'accorciamento dell'intervallo QT inizialmente sono visibili onde T alte simmetriche e aguzze quando il potassio sierico è maggiore di 6.5 milio equivalenti litro e provoca un ulteriore rallentamento della conduzione con dilatazione dell'intervallo QRS abbiamo una scomparsa da qui in su dell'onda P e aritmie nodali ventricolari di fuga infine il complesso QRS degenera in un tipo di onda sinusale e da ciò consegue la fibrillazione ventricolare oppure la sistoria in conclusione con l'abrogazione del manzionario si è giunti al verificarsi di numerosi episodi in cui le decisioni di attuare interventi assistenziali passano dal medico all'infermiere e questo barca a volte il limite tra il lecito e l'esercizio abusivo della professione questo è citato anche dall'articolo 348 del codice penale a risoluzione di questo però la professione inferministica va annoverata tra quelle attività rischiose il cui obiettivo primario non è la determinazione della licenità o no di un intervento ma è il reintegro della salute dell'individuo nell'assistere nel curare e nel prendersi cura di una persona purché si agisca con prudenza e ci si astenga da quelle situazioni in cui l'infermiere stesso non sia capace di gestire con richiamo alla legge 42 dovere generale per l'infermiere curare la propria formazione in via permanente ed in riferimento all'elettrocardiogramma l'obiettivo da perseguire non è fare diagnosi medica ma riconoscere quei ritmi e quelle situazioni potenzialmente pericolose che richiedono un intervento specialistico d'urgenza oltre alla raccolta anamnestica alla valutazione dei segni e dei sintomi del paziente che siano essi specifici o specifici con il metodo CRISP può valutare la normalità di un tracciato elettrocardiografico ed indirizzare correttamente il paziente verso un intervento medico-infermieristico più rapido ed appropriato grazie per l'attenzione e vi ricordo che l'attenzione costante di un buon infermiere è importante quanto la miglior mano di un chirurgo saluti grazie a tutti grazie a tutti